Un saluto a tutti e benvenuti sul canale del Club La Scommessa in compagnia di PokerProBat e di BetRace Dama Dama Ciao Io butto tutto e buonanotte a Stefano Jack e 8, doppia coppia Metti la picca Picca! Niente con questo vi dirò addio al mio torneo è stato un piacere essere con voi grande torneo possiamo rinfrescarci nella prossima pausa beh io mi butto da dove? dal piatto dal tavolo dal tavolo dal tavolo quello mi colla sempre mi vuole fare fuori quello ce l'ha con me sono il suo trofio vuole portarmi vincere questo piatto per Progrippobat è importantissimo per rientrare nel torneo dalla tua faccia si vede proprio sei convinto che possa succedere e invece con il turn con il turn succederà con il river succederà qualcosa con il river vai river aiutami su ma va ciao a tutti sono un piacere a tu no è un coppia di 4 ne vergogna bene dopo un'ora e cinque minuti sono uscito dal torneo adesso passiamo la mano a BetRaze visto che sta dando spettacolo e il suo amico PokerProBat che li farà da spettatore e niente adesso il torneo lo prosegue il nostro grandissimo amico BetRaze che si trova in ottava posizione vi ricordo fino ad ora dopo praticamente 79 minuti di torneo si sono iscritti 110 giocatori di cui 84 ancora in gioco 19 giocatori andranno a premio per il momento giochiamoci questa mano che a colore vediamo un po cosa fa il nostro amico BetRaze naturalmente manco a dirlo rilancia di tre bui un col di sgrollato sgrollato sgorollato un col di alex e giusessa siamo 4 quindi di colore naturalmente BetRaze fa un tre quinto un tre quarti di piatto e abbiamo subito due fold e giusessa ci pensa forse all'asso se all'asso sicuramente metterà ecco infatti niente ancora a questo punto BetRaze che fa continua ancora con tre quarti di piatto e vediamo giusessa cosa decide di fare e alla fine li butta tutte infatti ha una doppia coppia vinceremo solo con colore vai grande colore dammi 5 vai grande chiuso il colore e fuori giusessa che ha fatto la fine di poker probat scoppiato alla grande benissimo benissimo saliamo andiamo in seconda posizione qui già ci vedo negli occhi di BetRaze la forma del dollaro vediamo abbassa si infatti abbassiamo la sedia abbassiamo di essere tra i 23 un re-race di tre bui e settiamo una doppia coppia di 7 e 2 andremo quindi con una continuation bet di piatto siamo a casa un bel piatto di 1200 fish ancora due carte a colore K9 che andremo a massimizzare c'è un rilancio di un buio di Paolo Messe visto da Drago75 collato anche da noi pivolo fold sgorollato col e il col di Alex grande e buio settiamo il 9 con tre punti di colore abbiamo top pair con un bel kicker ovviamente su tutti i check andremo a fare un piatto di rilancio i primi due foldano Paolo Messe fold Drago75 fold quindi massimizziamo un'altra mano di 1300 fish ottima mano cercheremo di settare una coppia già rilanciato di un buio spereremo scorrollato ovviamente rilanciamo per non fare entrare nel piatto anche piccolo e grande buio il grande buio c'è ci sta pensando Paolo ecco infatti il fold di Paolo Messe ahia non settiamo ma il piatto il fold non ci aiuta facciamo un check c'è un asse d'ama che naturalmente eh andiamo di piatto avendo anche adesso accumulato quattro quadri in arrivo di piatto siamo arrivati alla nostra pausa interrompiamo qua questo video e ci vediamo al prossimo saluto da PokerProBat e da BetRace ciao ciao